L'orecchio caldo. Non mi sono mai accorto che era mia madre. L'ho sempre vista come una donna di strada. L'orecchio caldo alla porta della camera da letto mentre si vendeva. Ero sempre presente. Ero un figlio di strada. Quando mia madre aveva 40 anni l'ho ammazzata. Le ho sbattuto la testa contro lo spigolo del comodino. E' morta così. Erano le due e mezzo all'orologio della cucina e le cinque dieci alla sveglia della camera da letto. Perché? Commento. Perché in una vita precedente sei stata una madre che non ha avuto cura dei figli. Perché la tua attuale madre che in una vita precedente era uomo ha ucciso una sua amante con lo stesso orrore e con lo stesso odio. Con modalità vibratori affini, con codici simili a quelli con cui tu l'hai uccisa. La legge d'evoluzione è sempre economica. Usa la via più breve per costituire la coscienza individuale. E come? Servendosi degli stessi individui con cui si sono mosse le cause che hanno prodotto quegli effetti. Ed ecco che le esperienze si ripetono invertite per correggere, mai per punire.